Scusami, Davide Caparini, la situazione dell'ILVA rimane drammatica nonostante l'intervento del governo, come commenta questa situazione? È drammatica in quanto il GIP di Taranto ha disposto il sequestro dei beni immobili e delle quote azionarie nonché dei conti correnti di tutte le società collegate all'ILVA e del gruppo Riva. Quindi questo comporta che ben 13 società collegate che oggi operano con migliaia di dipendenti con le attività, gli stabilimenti in funzione, sono obbligate a chiudere gli stabilimenti, non possono più operare con le banche, insomma sono completamente paralizzate. C'è una decisione da parte del giudice che non ha tenuto conto dei riflessi pratici che il sequestro di beni pari a un miliardo, quindi una cifra enorme, avrebbe avuto sulla operatività, sulla produzione, sulla commercializzazione, sull'occupazione. Quindi oggi ci troviamo, per esempio, per quanto ci interessa direttamente, ovvero il gruppo Riva con 12 impianti, perché tanti sono gli impianti oggi in Italia, che sono completamente bloccati. Quindi 5.000 operai, 5.000 dipendenti che non possono entrare neanche in stabilimento a lavorare. Noi abbiamo chiesto, interpellato il ministro Zanonato perché intervenga immediatamente, l'unico interlocutore in questo caso è la magistratura e quindi siamo convinti che il giudice non volesse provocare questo danno economico a un comparto così importante del nostro paese. Quindi immagino che ritornerà sulla sua decisione dando la possibilità a tutti di lavorare.